Un'importante iniziativa con un coinvolgimento a tutto tondo di molti scolari fanesi per una presa a visione, una presa di contatto da vicino sul mondo dell'aeronautica militare italiana. Sì, è una bellissima occasione, questa anzi unica per i ragazzi delle nostre scuole, per i giovanissimi delle quarte e le quinte del terzo polo per avvicinarsi al mondo del volo, quindi faranno delle lezioni teoriche e poi pratiche, ma il bello è che andranno anche i comandi di questi velivoli. Questo grazie all'aeronautica militare che tramite un nostro intervento dell'aeroclub di Fano abbiamo richiesto, abbiamo fortemente voluto questo corso di volo per i ragazzi perché permetterà veramente ai ragazzi, a molti ragazzi, di pilotare prima un aeroplano rispetto a che prendere la patente della vettura. Quindi questa è una cosa che ci siamo detti poi questa mattina in riunione, quindi la cosa bella è proprio che alcuni piloteranno prima l'aeroplano e poi prenderanno la patente. Quando verrà tutto questo? Allora, dal 12 di marzo si parte con lezioni teoriche fino al 16 di marzo. Il 16 di marzo è una giornata bellissima anche per voi della stampa perché tutti i ragazzi confluiranno in aeroporto. Ci sarà, si chiama Media Day, una giornata proprio di coinvolgimento generale dove ci saranno moltissime autorità in arrivo, moltissimi giornalisti già tutti accreditati per volare. Questo permetterà ai ragazzi di conoscere i velivoli finita la parte teorica. Sarà proprio un mettersi seduti ai comandi da terra di questi velivoli e prendere coscienza di quello che poi da lunedì andranno a fare. Quindi dal lunedì fino al 24, fino al 23, questi ragazzi voleranno su questi velivoli e verranno premiati in teatro grazie all'amministrazione. Con tutti gli onori del caso avremo tutti i comandanti della Forza Armata, dell'Aronatica Militare e del Sessantesimo Stormo a premiare questi ragazzi. Quindi veramente un'importante iniziativa. Siamo felicissimi di aver portato questo corso a Fano.